Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Malore in piscina al campo estivo. Una vera e propria tragedia colpisce un'intera famiglia. Una ragazzina di 13 anni è morta a causa di un malore accusato in piscina durante il campo estivo. La sua famiglia è letteralmente scossa. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. La ragazzina si era tuffata in acqua e poco dopo non è più riemersa. Il bagnino si è lanciato per soccorrerla, le ha praticato un massaggio cardiaco e poi ha cercato di rianimarla con un defibrillatore. Trasportata d'urgenza in ospedale, la ragazzina è morta dopo otto giorni di agonia. Una vero e proprio trauma per la famiglia. Il triste episodio è avvenuto al centro sportivo di Guastalla, nella bassa reggiana, nel campo estivo parrocchiale di Poviglio, comune della quale era originaria la povera tredicenne. Si chiamava Elisa Madasi, la tredicenne che mercoledì 10 luglio ha accusato un malore nella piscina del centro sportivo di Guastalla. Malore che è risultato fatale per lei, morta dopo otto giorni di agonia. La ragazzina si è tuffata in acqua e non è più riemersa. Elisa si è spenta giovedì pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Parma. Le cause del malore accusato in acqua dalla ragazzina sono ancora da chiarire. A quanto pare non aveva patologie pregresse e ne aveva battuto contro il fondo della piscina o altre superfici.